Buona, io non posso neanche mangiare la porca, è perché non posso adesso. Dov'è il mio amore, mio amore, lui è Conor, io sono molto autovidiva, come si dice? Ah no, qui io non mi sta. Daniele, il mio secondo amore, Daniele, mua 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 mua. Daniele, dillo forte perché andrà su Facebook, grida, urla, come si dice urlare? Urlare, come si dice urlare? Urla, grida.